Allora, io non approfitto per farvi vedere la porta NAND, come si fa in Logica CMOS. Ecco, è una porta tipica e in realtà è talmente bene che quando si vuole fare una NAND si fa una NAND e poi si nega. Viene particolarmente bene. E' fatta così, vediamo a due ingressi, una NAND ha due ingressi, come deve essere fatta? Chiamiamoli A e B, invece Y1 e Y2, così evitiamo i pedici. Vi ricordate come è fatta la NAND? L'uscita della NAND è sempre 1 tranne quando i due ingressi sono 1. Quindi è fatta così. Allora, questa cosa, in modo piuttosto intuitivo, come si può realizzare? In questo modo, l'uscita quando è che è uguale a 1? L'uscita è uguale a 1 quando la pull-up conduce, no? Quando c'è un collegamento tra l'uscita e VDD. Allora, deve esserci sempre quando uno dei due ingressi vale 0, come si vede qua. Quindi, se A è uguale a 0 oppure B è uguale a 0, l'uscita deve essere alta. Allora, io questo com'è che la realizzo? Ho nella pull-up soltanto un transistore di tipo P. Quando un ingresso va a 0, il transistore di tipo P conduce e quindi l'uscita viene portata a VDD. Quindi basta mettere due transistori di tipo P in parallelo, ciascuno dei due comandato da un ingresso. Vedete, in questo caso, quando A è uguale a 0, conduce uno dei due, quindi la pull-up porta Y verso l'alto. Quando B è uguale a 0 è l'altro transistore che porta Y verso l'alto. Quando A e B sono tutte e due 1 invece, i due P in MOS non conducono. Ah, ho fatto una cosa che non vi ho spiegato. Quando A e B sono tutte e due A, 1, i due P in MOS non conducono e quindi la pull-up è sconnessa, è staccata, è aperta. E a questo punto vorrei dire che la pull-up dovrà portare Y a 0. Allora, ho fatto una cosa che non avevo mai fatto prima. Vedete, ho usato un simbolo diverso per il P in MOS. Questo è un simbolo che si usa spesso quando si fanno circuiti digitali perché è più semplice da fare. Ma questo corrisponde a questo qua. E' la stessa cosa. Vuol dire, guardate, il P in MOS è come il N in MOS ma è negato. Nel senso che conduce quando il gate è basso, mentre invece il N in MOS conduce quando il gate è alto. Ok, questo è il simbolo. E' il simbolo che si usa più frequentemente. Per gli N in MOS invece si usa un simbolo senza la freccia. proprio per disegnare velocemente, si leva la freccia, questo qui senza niente corrisponde all'N MOS. Questi sono i simboli. Ok, allora, la pull-down, questa è la pull-up, pull-up network, questa è la pull-down network. Vedete, la pull-down, al contrario, quando è che deve condurre? Chiaramente conduce quando Y vale 0. Quindi quando sia A sia B sono 1. Se voglio ottenere una rete che conduce quando sia A sia B sono 1, devo mettere i transistori comandati da E e B in serie. Perché quando A è uguale a 1, questo transistore conduce. Quando B è uguale a 1, conduce quell'altro. E quando conduco con tutte e due, la rete conduce. Quindi li metto in serie. Va bene? Questo è il modo di realizzare la NAND a due ingressi. Con un po' di fantasia, se faccio la NAND a N ingressi, è uguale il meccanismo. Cioè la rete di pull-up ha N transistori in parallelo, ciascuno comandato da un ingresso. La rete di pull-down ha gli N transistori in serie, ciascuno comandato da un ingresso. Perché la rete di pull-down deve condurre solo quando sono tutti a 1, gli ingressi. La rete di pull-down deve condurre quando almeno 1 è a 0. Per cui il meccanismo è chiaro. L'altra porta, quindi vedete, allora, in generale, questa è la porta NAND. Allora, in generale, una porta NAND a N ingressi ha bisogno di NPMOS e NNMOS. Per cui, insomma, si giustifica quello che vi dicevo prima, no? Più ingressi ho, più è complessa la porta. Esattamente, ci vogliono due volte per N i transistori. Ok. L'altra porta che ha senso vedere insieme è la porta NOR, che di nuovo viene particolarmente bene perché CIMOS è fatta apposta per invertire. Allora, la porta NOR ha due ingressi. Vediamo di riscrivere la tabella di verità. Dunque, la porta NOR è uguale a 1 solo se i due ingressi sono a 0. Altrimenti vale 0. Quindi riconosce, la porta NOR riconosce solo A e B uguali a 0. Allora, e qui la situazione è duale, non generale. Perché? Perché chiaramente l'uscita sarà 1 solo se A e B sono a 0. Quindi devo mettere due transistori in serie. Uno comandato da A e l'altro comandato da B. Vedete, quando A è uguale a 0, il primo transistore conduce. Quando B è uguale a 0, il secondo transistore conduce. Quindi, solo se tutte e due sono uguali a 0, la rete di pull-up conduce. Esattamente come previsto. La rete di pull-down, invece, conduce se almeno 1 è uguale a 1, come si vede dalla tabella di verità. E quindi, analogamente a quello che abbiamo fatto per la NAND, dobbiamo mettere, qui stavolta, i due transistori in parallelo. Comandati da A e l'abbia. Quindi, NOR ha N ingressi, ha bisogno di N PMOS e di N NMOS. Di nuovo, due N transistori. Le NOR e le NAND hanno lo stesso costo. Qualunque funzione logica la posso fare con NAND di NAND o con NOR di NOR, al momento, sono equivalenti per noi. Ho l'anticipo, e poi lo vediamo più avanti, che in particolare in tecnologia CMOS viene più comodo fare le NAND. Non si capisce ancora da qui, si capirà più avanti, tipicamente le NAND vengono più piccole. Quello è il motivo. Ancora qui, qui è un po' presto per vederlo. Però, ve lo anticipo, poi quello è un concetto che riprendiamo insieme. Un'altra cosa che vi faccio notare, ma non vi racconto adesso, poi dedichiamo una sezione intera alla cosa, è questo. Guardate, la pull-up network e la pull-down network hanno una relazione l'una con l'altra. Vedete, già in questo caso si capisce, c'è una dualità, come si dice. Vedete, nella NAND ho due transistori in parallelo, nella pull-up e due transistori in serie nella pull-down. Nella NOR ho due transistori in serie nella pull-down e due transistori in serie nella pull-up e due transistori in serie nella pull-down. Ora vedremo che in realtà questa è una cosa un pochino generale, sembra un indizio questo, ma qua nella pratica la rete di pull-up e la rete di pull-down sono complementari. Cioè, quello che inseri nella pull-up è in parallelo nella pull-down, quello che è in parallelo nella pull-up in serie nella pull-down. È una cosa che, una proprietà che vedremo è sempre manifesta ed è una proprietà che discende direttamente dalle famigerate leggi di De Morgan. In pratica, da questo fatto che si trasforma serie parallelo in serie, perché, cioè, si assumono le NAND in ore, le ORI in N, perché chiaramente l'AND richiede la serie, l'ORI richiede il parallelo. Quindi questa trasformazione qui è la causa del fatto che c'è quella complementarità e quella dualità tra pull-up e pull-down. Però lo vediamo più avanti. Stop. E' una cosa che si tratta,